Siccome vi siete lamentati che non avevo intervistato unicamente voi, oggi ho trovato anche Bellina, quindi a questo punto renditi conto di cosa vuol dire, eccoli qua, Bibi e Bibò, Luca e Dario, Dario e Luca. Ciao! Ciao Carucci! Come sta andando? Lo chiedo a Dario per primo. Puoi andare a uccidere quello con la moto? Sta andando che stamattina ti ho fatto 4 ore in pista. 4? Aveva rotto il camion ieri e quindi stamattina ho fatto 9. La notte è passata in giusto o hai il bivacco ad aggiustarlo? In pista. Beh? Sa parte del giorno. Mi sembra giusto. Invece Luca, sereno? Serenissimo. Non c'è di niente interessante. Beh, lasciamo stare. Però? Però? Mancano due giorni alla fine. Ma dai, una bella esperienza, piuttosto che stare al bivacco tutto il giorno a aspettare. No, ma no, bello, bello. Cioè, nessuno, neanche Pinocchio mente come voi, ve lo voglio dire? No. Va bene, ne riparleremo. No, ci aspettavamo più T4. Sì, più gara. E meno assistenza. Ora capite la dura vita dei T4.3. Non so, abbiamo deciso di comprare un camion noi. Oltre, sono già preoccupato. Per giocare. Perfetto. Ci aggreghiamo qua il complico dei Bergamaschi e Bresciani. Bene, bella questa. Bravo, mi piace. Ok, ciao ragazzi. Ciao. Potete tornare a bere il vostro Fernet, tranquilli, tranquilli. Ciao.